L'estate del 2020 e del 2021 per i frequentatori della spiaggia libera è stata accompagnata da una serie di servizi che il comune di Pesaro è stato in grado di fornire. Si tratta di foot track, di ombrelloni, di lettini e di docce che hanno concesso un maggiore comfort a costo zero per tutti i bagnanti che hanno scelto la spiaggia libera. Per quanto riguarda la stagione 2022 invece di quel modello che era stato sperimentato nei due anni precedenti non si è ancora vista traccia e per questo a fare chiarezza sull'argomento ci ha pensato l'assessore al fare con delega al demagno Riccardo Pozzi. Siamo riusciti come comune di Pesaro a sperimentare un modello, un modello che ha funzionato molto bene e che è stato molto apprezzato da pesaresi e turisti. Questa possibilità è stata una conseguenza positiva, diciamo così, del covid perché il covid si è portato dietro anche a una serie di decreti di semplificazione da un punto di vista amministrativo e burocratico per tutta una serie di procedure che ci hanno consentito di sperimentare questo modello in che cosa consisteva, nella possibilità di posizionare un foot track con un deposito di lettini e ombrelloni per i bagnanti per poterlo lasciare durante la stagione e poterlo utilizzare e al tempo stesso anche delle docce, delle docce che avevano bisogno di un presidio. Purtroppo, per fortuna oggi il covid è meno pericoloso, ma purtroppo quei decreti che semplificavano e che liberalizzavano quel tipo di autorizzazioni sono venuti meno. Abbiamo iniziato un ITER, un ITER che insieme all'assessore Miradora che segue il piano spiaggia, che quindi consentirà questo tipo di modello, di sperimentarlo, aggiustarlo. E' un modello che quindi richiedeva e richiede tuttora con la modifica al piano spiaggia tutta una serie di pareri, quindi Regione, Demanio, Provincia e Sovrintendenza e quindi stiamo cercando di adattarlo per renderlo definitivo. Purtroppo per questa stagione verosimilmente non riusciremo, sarà però un modello che tornerà a essere presente dalle prossime stagioni balneari. Nel frattempo però il Comune di Pesaro è intervenuto, fornendo un sistema di sicurezza ai bagnanti della spiaggia libera, garantendo sette postazioni di bagnini lungo il litorale pesarese. La fruibilità e la sicurezza delle nostre spiagge libere resta una priorità, quindi anche quest'anno abbiamo impegnato 85.000 euro proprio per la gestione del servizio di salvataggio in tutte le spiagge libere, da Sottomonte, Baia Flaminia, Fiorenzola, è un servizio che paga il Comune e che garantisce una maggiore sicurezza di tutti i balneanti, di tutti coloro che frequentano la spiaggia, in particolare nei fini di settimana, venerdì, sabato e la domenica e tutti i giorni in agosto.